Si naspriscono i rapporti tra Agostino Gallozzi, presidente dell'omonimo gruppo imprenditoriale del settore navale e portuale Confindustria Salerno. Ribadendo di aver dato mandato ai propri legali di tutelare l'immagine e i propri diritti in sede civile e penale dopo una serie di provvedimenti dell'associazione, Gallozzi ha annunciato questa mattina di ritirare le proprie aziende dal Confindustria Salerno, seguendo quindi l'esempio della Fiat. Una decisione che sarebbe stata adottata dopo un'attente ed approfondita valutazione, senza però rinnegare, ha detto Agostino Gallozzi, il percorso associativo che l'ha visto per quattro anni alla presidenza ed ora in attesa di un successore a Confindustria Salerno. Una fase che sta dividendo il mondo imprenditoriale salernitano che potrebbe in ogni caso risolversi a breve. Alla base di tutto ci sarebbe anche l'iniziativa definita incredibile e sconcertante da parte di Gallozzi, del Collegio Nazionale dei Probivini di Confindustria, che ha disposto l'impossibilità di accedere per i prossimi cinque anni a cariche confederali al massimo esponente del gruppo navale salernitano. Sempre secondo Gallozzi la realtà sarebbe peggiore di ogni onirica fantasia, lasciando volentieri, ha detto al cosiddetto trasturlo Confindustriale, ogni ricostruzione del suo operato in qualità di presidente di Confindustria Salerno. Alla fine Gallozzi ha anche esposto una considerazione sull'operato della Fiat. Avrebbe fatto bene, insomma, Sergio Marchionne a decidere che è meglio, molto meglio, tutelare gli interessi della propria azienda da soli. Questo perché, secondo il presidente del gruppo Gallozzi, questa Confindustria assomiglierebbe più ad un comitato politico che ad un soggetto di rappresentanza degli imprenditori, quelli veri.